Sono Sebrio, Gbaglia69, e oggi vi voglio far vedere un fumetto che mi ha regalato un mio amico. È X-Men Blue Venom. Adesso ve lo apro. Le tavole sono bellissime. Sono una cosa... wow. Adesso non l'ho ancora letto. Ho sentito il profumo delle pagine e si sente che è nuovo. Sì, lo so cosa volete dire. Perché così? Perché a me piace sentire il profumo della carta. Cioè, le tavole sono i disegni una cosa bellissima. E niente, fa vedere qua i numeri di Venom. Mi sembra che sia 9 di dicembre. E Venomix. Poi qua l'X-Men. Questo è stato un video corto. Sono Sebrio, Gbaglia69. Mettete tante like, commentate. Ciao, ciao!